L'abbazia, vista dal portone, ci appare di profilo. Il borgo di Morimondo, con i suoi edifici storici, va da cornice ideale al complesso. L'edificio, realizzato in mattone da Bonaci Cistercensi, nel 1182, segue i principi dell'architettura gotica. La facciata capanna a vento e l'atterizio è ornata da archetti ciechi e da bacini ceramici policromi, che sono un elemento decorativo tipico romanico in pianura padana. L'interno gotico è suggestivo e maestoso, illuminato da una luce mistica che entra da finestre circolari, poste nell'abside, il quale presenta arcate gotiche a ogiva. Le imperfezioni e le simmetrie sono il simbolo dell'umiltà umana dei monaci. Nella zona absidale si trova un prezioso coro all'Igno del 1500. Le navate sono separate da colonne di diversa forma, con capitelli di pietà chiara, lavorati in moltiplici modi. Intorno al chiostro medievale, centro spirituale del monastero, si sviluppano una serie di ambienti di vita monastica. La sala capitolare si affaccia sul chiostro ed ha uno stile architettonico, gotico e legante. Ma la ricchezza del paesaggio risiede nelle emozioni che ci ispira. La sala capitolare si feste toca maestriente.